Leonardo Alaimo, come ci si sente a dover interpretare Puccini davanti a un pubblico di arabi? Sinceramente sono veramente molto onorato e emozionato per quello che mi sta accadendo perché appunto è il sogno di un ragazzo che parte dal nulla e si ritrova ad avere davanti insomma una generazione importantissima della lirica mondiale come appunto il maestro Plasido Domingo e come con la regia appunto di Franco Zeffirelli e niente ancora non ci credo, ci sono delle volte che mi sveglio e dico ma sto sognando o è verità e quindi adesso devo scoppiare quindi non vedo l'ora di essere lì e vedere cosa succederà Come ti aspetti il sultanato? Non lo so, non lo so, non riesco a immaginarlo Per intanto adesso ho veramente studiato tantissimo, mi sono fatto aiutare da direttori d'orchestra appunto per cercare di arrivare quanto più preparato possibile che è la cosa a cui tengo in modo particolare perché lo studio è la cosa fondamentale infatti io dico sempre anche a quei pochissimi e selezionatissimi allievi che ho che lo studio e la coscienza nell'arte e nella musica è più importante del successo che poi alla fine se Dio vuole arriverà ma ovviamente io non mi sento arrivato per niente questo spero che sia solo un trampolino di lancio per me Qual è la parte più delicata del tuo ruolo? Ma è un ruolo molto difficile perché io farò Pong che è uno dei tre ministri sono praticamente le maschere dell'opera La Turandò è un'opera veramente molto complicata è l'intreccio delle tre voci tra l'altro io sono l'unico canicattinese il canicattinese tra un coreano e un argentino quindi io sono di Canicatti arrivo e devo cantare con loro a tre messi insieme insomma sarà una bella sfida Un pensiero va anche a una persona che non c'è più l'icitra doveva fare parte del cast Purtroppo sì Purtroppo l'unico rammarico da parte mia è quello di non averlo conosciuto non c'eravamo intravisti ma non avevamo mai avuto l'occasione di parlare questa sarebbe stata una bellissima occasione ma non è stato possibile quindi sicuramente un grandissimo dispiacere per questa perdita Quale messaggio vuoi lanciare? Che significato assume questa importante esperienza agli occhi dei tuoi concittadini? Che anche da un paesino piccolo dove magari non c'è un teatro funzionante dove non avevo mai visto un'opera in vita mia dove nessuno mi aveva mai indirizzato cioè se uno ha la volontà e la voglia di fare è da un pizzico di sostegno da parte della famiglia perché anche questo è un grande aiuto che io ho da parte della mia famiglia e del loro sostegno mi ha fatto diventare veramente molto ambizioso e l'ambizione paga sempre